Diceva prima Sara che è stato questo un percorso lungo e mentre parlava sottolineava un aspetto che sicuramente è importante da avere ben a mente che c'è stato cioè in un certo senso oggi è il risultato di una cura di una cura esercitata da tutti noi e noi in senso ampio nel non perderci di vista, cioè questo tipo di percorsi funzionano nella misura in cui c'è un'attenzione al tenere quelle relazioni che servono non solo finalizzate all'obiettivo specifico, la costruzione della lista degli indicatori eccetera, ma anche per quella componente che sottolineava sempre Sara che è la condivisione di aspetti valoriali culturali. Questo tipo di lavoro non può perdere di vista anche quella crescimento valoriale culturale che è la base su cui si fonda poi anche una lista di indicatori. Allora è chiaro che oggi qui in questa sede e soprattutto anche in questa parte di tavolo ci sono persone che ognuna di loro è in un certo senso nodo di una rete, di una rete importante e quindi il fatto che siano qua abbiano condiviso questo percorso significa anche che gli interlocutori che vedranno loro nelle singole diciamo ambienti e contesti saranno in un certo senso anche coinvolti in questo processo culturale valoriale. Questo è un elemento importante e che va ogni volta ricordato perché in questo modo non solo capitalizziamo ma abbiamo la possibilità di avanzare, avanzare su un terreno che appunto non è così facile e non è così scontato. Quindi grazie a tutti voi che siete qui come anche come dire nodi di queste reti che stanno dietro a voi. Quindi io immagino dietro a voi delle moltitudini, delle folle diciamo e quindi passiamo. Allora inizia Vittoria giusto? Bene, Vittoria. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui, grazie ai cittadini e grazie ai professionisti che ormai io considero come un'unica entità dopo questa ricerca che ci ha visti insieme nella rilevazione degli item di umanizzazione. La presentazione che facciamo come Emilia Romagna è una presentazione corale, collettiva perché è frutto di quello che è stato il lavoro di studio e di ricerca di uno degli attori principali che è la cabina di regia regionale. Io quindi mi faccio un po' sono portavoce, vi descriverò come abbiamo declinato all'interno della realtà regionale quindi nelle aziende le diverse fasi che sono state descritte da Sara e da Giorgia ma ognuno degli altri relatori come dire si fa portavoce di una parte di ricerca e della ricerca e del suo contributo anche alla ricerca complessiva. Quindi abbiamo il referente civico regionale Remo Martelli che come dire esprime anche un po' la voce della parte civica presente all'interno dell'equipe miste. Abbiamo il dottor Nicastro che ci ha seguito con veramente molto cuore e molta attenzione nella rilevazione di questa checklist per quanto riguarda gli aspetti rilevati sulla sicurezza del paziente. Abbiamo Piera Nobili del Centro regionale informativo per il benessere ambientale che ci ha aiutato ad approfondire in maniera diversa, inedita, gli item, gli indicatori di tipo strutturali presenti all'interno dell'area 2 della checklist e abbiamo Laura Biagetti una colonna portante diciamo della qualità direi dell'azienda US di Bologna che oltre che è referente per l'accreditamento quindi come dire esprimerà la voce che mette in connessione il processo di accreditamento a livello regionale e aziendale e come dire il valore di questo progetto che va a sostenere il criterio 8 dei requisiti di accreditamento. Allora non voglio stare molto però giusto per farvi capire che cosa la mia area di lavoro che è composta appunto da Augusta Nicoli che ci guida sapientemente da 15 anni i miei colleghi Giovanni, Luigi ecco la nostra area di lavoro si occupa appunto da 15 anni della valutazione della qualità dal punto di vista degli attori del sistema sanitario con un focus particolare sulla qualità percepita da parte dei cittadini ma anche con un'attenzione all'ascolto e ad attivare azioni di ascolto verso i professionisti. Il nostro approccio è un approccio che integra, si può definire come dire polifunzionale, che integra l'utilizzo di diversi sistemi, diversi strumenti di ascolto che vanno dagli strumenti più quantitativi a quelli più qualitativi come interviste, focus group, che di volta in volta tariamo sulle base delle richieste, delle domande che ci vengono fatte da parte delle aziende o da parte dei servizi dell'assessorato e sulla base degli obiettivi conoscitivi o programmatici che hanno perché l'ascolto ci serve in particolare all'azienda e serve per, così come alla regione ma soprattutto all'azienda, per un miglioramento dei servizi che eroghiamo agli utenti. Quindi le principali linee di ricerca hanno a che vedere con lo sviluppo che ormai da anni abbiamo curato di questionari di qualità percepita tarati sulle caratteristiche dei singoli servizi. Quindi siamo partiti dall'adegenza per arrivare ai percorsi, alla rilevazione di qualità percepita su un percorso assistenziale per esempio come il percorso nascita. Quindi strumenti più quantitativi, abbiamo come dire traiamo una reportistica regionale anche da una banca dati delle segnalazioni dei cittadini, cioè i cittadini segnalano tramite reclamo di servizi oppure segnalano anche elementi di eccellenza tramite gli elogi che presentano agli uffici in relazione con il pubblico delle aziende sanitarie. Esiste quindi una banca dati in cui vengono inseriti elogi e reclami che è un utile come dire specchio che ci restituisce una fotografia sulla soddisfazione e insoddisfazione dei nostri utenti. Portiamo avanti anche azioni di ascolto dei professionisti del sistema tramite soprattutto indagini qualitative con l'uso di strumenti quali focus group, interviste e azioni di empowerment individuali di comunità. Ovviamente la ricerca umanizzazione si inserisce fra le azioni di empowerment che portiamo avanti. Ora non mi starò a soffermare sul percorso che abbiamo condotto su tutte le tappe del percorso, però su alcuni punti essenziali, ovvero che a partire dall'inizio di questa ricerca che per noi ha coinciso più o meno maggio-settembre del 2016, si sono costituite quelle che sono, io li ho chiamati un po' i driver del funzionamento, che sono la cabina di regia regionale e il gruppo dei referenti aziendali. Li chiamo i driver del funzionamento perché questi due gruppi hanno continuamente elaborato, revisionato gli strumenti di rilevazione, costruito un nuovo strumento accanto a quello proposto da Agenas, perché Agenas ci ha proposto di rilevare una checklist di indicatori di umanizzazione e noi accanto a questa checklist abbiamo costruito un set minimo di indicatori e vi spiegherò più avanti il passaggio dalla checklist al set minimo. Comunque questi driver cosiddetti del buon funzionamento e dell'efficiente funzionamento della ricerca si sono continuamente ritrovati predisponendo i documenti, i protocolli, il protocollo metodologico, revisionando anche gli strumenti per rendicontare gli esiti, per esempio il report regionale o appunto gli strumenti di rilevazione, come vi dicevo il set minimo di indicatori. Un'altra fase particolarmente importante e degna di nota in Emilia Romagna è stata quella della formazione e per questo c'è da ringraziare anche la funzione formazione dell'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale che ci ha affiancato perché abbiamo particolarmente investito nella formazione alle equip locali per non solamente trasferire all'equip gli elementi tecnici e procedurali di questa ricerca e di questa rilevazione ma anche per costruire fin dall'inizio un clima di riconoscimento all'interno dell'equipo, un clima di reciproco conoscimento, un clima di collaborazione e uno sguardo unico a quello che andavamo a valutare. Quindi la formazione direi che è stato un elemento molto molto curato. L'altra specificità del percorso è stata proprio l'elaborazione, costruzione e sperimentazione di un gruppetto di indicatori a rapporto che andassero a valutare più o meno le stesse dimensioni proposte dalla checklist di Agenas. La checklist chiedeva di valutarle verificando la presenza e assenza di determinate caratteristiche di umanizzazione. Come regione Emilia Romagna abbiamo detto proviamo, dato che rileviamo con meno indicatori Agenas e quindi siamo un pochino più fortunati da questo punto di vista, no però per scherzare, però proviamo a sviluppare una descrizione qualitativa di come quella caratteristica di umanizzazione che noi andiamo a rilevare come presenza e assenza viene agita realmente all'interno delle strutture che andiamo a valutare. Non sto a rimanere sul costrutto perché le aree sono già state descritte come dire da chi mi ha preceduto. Mi soffermo un attimo sugli strumenti, sulle checklist di rilevazione all'interno della nostra regione perché in qualche modo appunto ci differenziamo dalle altre regioni proprio per questo perché abbiamo utilizzato, selezionandoli dalla checklist di Agenas, 46 indicatori della checklist di Agenas e 10 sulla sicurezza del paziente. Come vi dicevo prevalentemente gli indicatori presenti nella checklist richiedevano di rilevare la presenza e assenza di una determinata caratteristica. Accanto abbiamo rilevato anche con un altro strumento, cioè da quei 46 indicatori la cabina di regia regionale nelle diverse edizioni, nelle due edizioni di ricerca ha sviluppato e riuscita a costruire, perché per non tutti gli indicatori della checklist Agenas era possibile farlo, però riuscita a costruire degli indicatori a rapporto che andavano un po' a verificare come qualitativamente veniva agita quella caratteristica all'interno delle strutture oggetto di visita. Parallelamente abbiamo sviluppato con la collaborazione e questo è un altro punto di forza il coinvolgimento del CRIBA che, e poi sarà Piera poi a presentarsi, però ha un'esperienza in tema di benessere ambientale, non solo per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere fisiche e sensoriali, ma in una maniera anche più ampia ci ha, come dire, portato ad approfondire e a fare un lavoro di approfondimento sull'area 2 della checklist di Agenas, sviluppando per ognuno degli indicatori presenti, la maggior parte, presenti nell'area 2, 5 evidenze, cioè laddove l'indicatore chiedeva presenza dei bagni nelle stanze di degenza, noi siamo andati anche a verificare se questi bagni avevano 5 evidenze proposte da CRIBA, il lavandino, i sanitari posizionati in una determinata maniera, in modo da rispettare le condizioni di fragilità legati all'handicap, quindi per questi 12 item presenti nell'area 2 ogni item presentava 5 evidenze, così come anche un altro esempio il bar, il bar non ci bastava sapere se c'era, era presente o non era presente, ma se il bar aveva delle caratteristiche, delle determinate caratteristiche, cioè per esempio se il bancone era abbastanza basso in modo da poter servire anche una persona che perveniva in carrozzina o se su quel bancone era pieno di oggetti per cui la persona che arrivava in carrozzina non riusciva nemmeno a vedere l'operatore del bar che stava dietro. Questo è per fare qualche esempio, in totale quindi sono stati rilevati 139 indicatori. Adesso lascio la parola a Remo che vi descriverà un po' le caratteristiche di quelli che ho chiamato i driver della ricerca. Buongiorno a tutti, gli attori che non si sono messi in mostra solamente per farsi vedere ma soprattutto hanno lavorato nel silenzio e comunque nella discrezione diciamo dei vari ambienti in cui sono stati visti impegnati. Chi sono questi attori? Intanto cominciamo dal responsabile tecnico-scientifico che ovviamente ha appena parlato e che è il motore diciamo nella nostra realtà di chi ci ha guidato, da chi ha sostenuto questa analisi, questa ricerca. della gabina di regia ne ha già parlato ma comunque indichiamo e lo vedete l'innovazione sociale, la funzione appunto dell'agenzia sanitaria regionale, la direzione generale del cura delle persone e salute del welfare, assistenza ospedaliera, servizi e strutture e tecnologie informative, referenti delle aziende sanitarie, referenti civici regionali che andremo a dire, il comitato consultivo regionale per la qualità del servizio dei cittadini e per la qualità appunto relativa all'attività che andavamo a svolgere. Il comitato regionale ha contribuito per fornire in questo contesto i referenti civici regionali così individuati dalla gabina di regia e non erano altri che rappresentanti appunto del comitato consultivo regionale e che si sono resi disponibili per essere dei referenti nell'area vasta di riferimento. Appunto i referenti civici eravamo in tre, suddivisi appunto nell'area vasta Emilia, Centro e Romagna e hanno avuto delle funzioni di riferimento proprio di rendere più fruibile e più gestibile l'attività di rilevazione. L'equip misti locali, se ne è parlato, se ne è ampiamente detto cosa sono, ma in realtà queste equip sono state realmente quelle che hanno poi dato il frutto dell'indagine che abbiamo poi svolto. L'equip misti locali, così come sono state intese, uno per ogni azienda, differentemente proporzionati in funzione delle strutture che erano da visionare ed erano formate al 50% da cittadini e al 50% da professionisti e operatori del sistema. Questa è una foto emblematica, mi ci vede in prima persona, ma comunque diciamo che tutte le aziende hanno lavorato in sinergia all'interno delle strutture proprio per dare fondamento, per dare il massimo della responsabilità e il massimo della visibilità a ciò che si stava facendo. Come vedete erano impegnati diverse persone, cittadini, 66 cittadini, ma prevalentemente provenienti dall'area dei comitati consultivi misti, che non mi stanco di ricordare, mi prendo un breve spazio, scusatemi se insisto, ma per chi ancora non ci conoscesse o non sapesse chi sono i comitati, è importante dirlo e soprattutto vorrei rincarare la dose per capire l'importanza che hanno questi organismi all'interno delle aziende. fanno parte dell'azienda, non è un qualcosa di separato, fanno parte dell'azienda e nell'azienda vogliono contribuire e migliorare i servizi ai cittadini. Non è che si vogliono sostituire a trattative o a cercare qualcosa di riservato o di particolare, ma ad ampio raggio tutto ciò che è il bene del cittadino, del servizio appunto reso dal servizio sanitario è di nostro interesse e quello che noi facciamo lo facciamo liberamente, autonomamente e in modo molto autonome e libero. ovviamente in questi comitati ci sono i rappresentanti aziendali, quando ci sono e sono sperabili e è desperabile che ci siano sempre, perché è a loro che noi dedichiamo la nostra attività. Ci incontriamo normalmente una volta al mese, ma a volte anche più di una volta al mese e soprattutto per progetti che valutiamo in comitato, azienda per azienda, di strategia, di importanza strategica appunto per raggiungere degli obiettivi. Questo è doveroso dare atto a chi è qui e che svolge un'attività del comitato, perché lo fa sottraendo del tempo alla propria famiglia, i propri impegni personali e lo fa con uno spirito di dedizione e di conseguenza io personalmente li ringrazio tutti quanti. sono state rappresentate in questo contesto 39 associazioni, parte di questi 66 cittadini, ma non vogliamo dimenticare i professionisti che ci hanno affiancato con spirito critico e ovviamente sono stati trattati anche in un modo diciamo abbastanza alla pari oserei dire e nella rilevazione di questi dati che abbiamo fatto sia in osservazione, cioè osservando i reparti in cui siamo stati, ma non solo, anche la parte diciamo che è stata fatta in ufficio o diciamo seduti a un tavolo per verificare la documentazione che era richiesta appunto se sì o se no, questi professionisti sono stati di sostegno e di aiuto all'attività svolta dall'equip miste. che dire di altro? Ecco, arriviamo a questo. Dove sono state fatte queste rilevazioni? Ci sono 13 presidi sanitari dove sono state fatte queste analisi in tutte le aziende dell'Emilia Romagna e ovviamente andiamo dallo stabilimento di Rimini a un istituto privato, Villa Maria Cecilia, alla struttura Santa Maria della Scaletta di Imola, stabilimento di Cento dell'azienda di Ferrara, l'Arcispedale Sant'Anna dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara, l'ospedale Bellaria dell'azienda sanitaria di Bologna, Policlinico Sant'Orsola Malpighi, appunto dall'azienda ospedaliera universitaria di Bologna, presso l'istituto ortopedico Rizzoli dell'IRCS appunto di Bologna, stabilimento di Carpi dell'azienda Ursa di Modena, il Policlinico di Modena dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, lo stabilimento di Fidenza dell'azienda OSL di Parma, gli ospedali riuniti, azienda ospedaliera universitaria di Parma e lo stabilimento Guglielmo da Saliceto dell'azienda USA di Piacenza. In tutti questi presidi è stata fatta la visita dell'equip mista e sono stati appunto rilevati quei dati, quegli item, quelle analisi che ci chiedeva sia la Genas ma soprattutto anche quello che abbiamo stabilito nella regia appunto di Bologna di rilevare anche gli indicatori e altri sulla sicurezza e sul CRIBA. Grazie. Allora a questo proposito segnalo che durante la sessione poster presente in questo convegno diversi stabilimenti ospedalieri descriveranno ai presenti che passano come è stata svolta la ricerca nel loro contesto locale, quali sono stati i punti di forza, di debolezza, quali le azioni, gli elementi critici che hanno incontrato e quali sono state alcune di queste strutture hanno già sviluppato delle azioni di miglioramento, elaborato più che altro, lo sviluppo c'è ancora tempo insomma, per cui possiamo approfondire durante la sessione poster anche ciò che è successo a livello locale. Riparto appunto con un altro elemento organizzativo qualificante della nostra esperienza regionale è stato quello del percorso formativo svolto insieme alle equip locali che a partire da una giornata di avvio è stato caratterizzato da delle formazioni anche residenziali, una formazione residenziale prima della fase di rilevazione delle checklist e che è stata particolarmente utile perché in quel frangente è avvenuta una simulazione di rilevazione in tre stabilimenti ospedalieri, quindi uno per ogni area vasta. L'equip di quella area vasta si sono riunite e hanno simulato una rilevazione all'interno di quella struttura, seguiti anche da Criba. quindi è stato molto molto importante perché si sono come dire già hanno anche superato determinati timori che potevano avere prima della rilevazione. L'altro momento importante è stata anche la formazione residenziale dopo la rilevazione perché in quella formazione residenziale abbiamo approfondito insieme ai componenti dell'equip il modo in cui avevano lavorato insieme, quali erano gli ostacoli che potevano aver incontrato, qual era stato il clima all'interno dell'equip durante la rilevazione e abbiamo, ci siamo spinti anche a provare, a sviluppare delle tipologie, delle tipizzazioni di lavoro in equip. Quindi a seconda che all'interno dell'equip fosse presente una determinata figura aziendale piuttosto che un'altra, più come dire laddove per esempio erano presenti i professionisti che si occupano di qualità di accreditamento, quindi che hanno anche un occhio rivolto alla valutazione, diciamo che c'è stato un quid anche in più perché nell'organizzazione dei documenti, nella raccolta dei documenti, nella indicazione sul dove andare a rilevare che cosa, ecco. Per cui le diverse equip, come dire, hanno sviluppato le competenze, hanno messo a valore le competenze dei loro componenti interni. Come si è svolta la valutazione appunto a livello locale? e consiste la valutazione, la rilevazione delle checklist è consistita appunto nella raccolta di evidenze da parte dell'equip mista. Per alcuni degli indicatori della checklist, si trattava di evidenze documentali, presenza o meno di protocollo per il dolore per esempio, allora si andava a recuperare il protocollo sviluppato all'interno della struttura. In altri casi vi è stata proprio una visita sul campo per capire se certe caratteristiche erano presenti, se c'era o non c'era un bar, se le sale d'attesa erano fatte in un certo modo oppure no. No, sì, 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 no ma ce n'è poco. Ok, per cui quindi visite sul campo e poi c'è stata l'analisi degli indicatori del set minimo sviluppato in Romagna, quindi il calcolo, l'individuazione dei valori da inserire a numeratore e denominatore è stato fatto da parte dell'equip mista, è stato fatto a tal volino, sulla base delle evidenze che erano rintracciabili nei casi più fortunati da sistemi magari informativi interni o banche dati interne, nei casi meno fortunati andando anche a scartabellare le cartelle cliniche per individuare se c'era per esempio la scala del dolore all'interno delle cartelle cliniche. E qualche risultato, ma non mi vorrei soffermare molto perché vi è un'ampia trattazione sui risultati nel report che avete, che potete consultare all'interno della carpetta, per cui non vorrei togliervi troppo tempo, ma semplicemente per dirvi che in generale la media regionale sugli item della checklist di Agenas, sugli indicatori della checklist di Agenas e a dei livelli molto alti. Considerato che noi ci valutiamo su una scala che va da 0 a 10 presenza, più o meno, che non è una scala però comunque l'avere raccolto un punteggio, una media regionale su 13 strutture di 8,6 vuol dire che siamo molto molto vicino all'eccellenza. E devo dire che le diverse strutture ospedaliere che hanno rilevato, confrontandosi con questa media regionale, con questo punteggio medio regionale di 8,6, dimostrano di essere in linea col punteggio regionale, una parte di esse, di superarlo perché 7 stabilimenti ospedalieri superano la media regionale, o comunque di essere molto molto vicini. Non si va in nessun caso se arrivati sotto, come dire, sotto la sufficienza, in nessun caso di stabilimento visitato. Qui utilizzo un po' le restituzioni che ci ha fatto Agenas sui risultati. Quindi vi parlerò degli item, nel senso che vi do una visuale, perché non vi parlerò di tutti gli item, con punteggi più alti. Ma nell'area 1, per esempio, gli item che richiedevano l'adozione di linee guida e protocolli per il trattamento del dolore, nelle unità operative di medicina generale, chirurgia generale, oncologia, hanno raggiunto il massimo punteggio. Un altro risultato, come dire, degno di attenzione, è quello sulla presenza di interpretariato, del servizio di interpretariato e mediazione all'interno delle strutture. Per quanto riguarda l'area 2, invece, non mi soffermo perché direi che Piera ci farà un commento sui risultati raggiunti e diciamo che ci sono degli elementi di alta qualità, ma ve ne parlerà Piera Nobili di Criba. Per quanto riguarda l'area 3, che ha a che vedere con l'accesso alle informazioni, la semplificazione, la trasparenza, cioè la possibilità di poter condurre un percorso, essendo facilitato dalla erogazione puntuale e precisa di determinate informazioni che possono arrivare dai punti informativi, che possono arrivare tramite i moduli informativi o carte dei servizi di unità operativa. La semplificazione e la trasparenza vuol dire anche avere una facilità nella prenotazione, per esempio, presso i CUP. Questi tre item presentano il punteggio più alto. Per quanto riguarda l'area 4, vediamo che elementi di eccellenza sono la presenza di una procedura aziendale sul consenso informato, la disponibilità di carta dei servizi su sito web, ma anche un'attenzione... Scusate, mi ero scordata che c'era un microfono, ma mi avete sentito? No. Allora, anche l'attenzione alle criticità che emergono dall'analisi della reportistica sui reclami e le segnalazioni degli utenti, criticità che poi portano allo sviluppo di azioni di miglioramento. In questo caso abbiamo raggiunto i punteggi più alti. Per quanto riguarda invece i punteggi più bassi, qui emerge un punto che probabilmente anche però, e lo segnalo, è un punto di debolezza della checklist di Agenas. Cioè l'indicatore 29 ci ha fatto emergere come procedura di rispetto del fine vita il fatto che in Emilia-Romagna non tanto vengono assicurate delle stanze ai pazienti terminali, quanto vengono messi in atto dei comportamenti volti alla tutela della privacy del paziente terminale e dei familiari. Quindi spostare magari il paziente terminale in un'altra stanza. Inoltre questo item ci ha fatto riflettere sul fatto, sul grosso tema delle cure pagliative che sì iniziano in ospedale ma che chiamano in causa prevalentemente il territorio e il tema delle cure pagliative chiama anche in causa la formazione di equip di professionisti ospedale e territorio che collaborano per un corretto accompagnamento al fine vita anche alla casa. Cioè a noi sembra che umanizzazione possa voler dire anche poter morire a casa propria. Ecco, debitamente assistiti. Quindi su quest'item che ha un valore basso in realtà occorrerebbe fare una riflessione. Per quanto riguarda l'area 2, come anche ha detto all'inizio la direttrice, la presenza di piani aziendali di eliminazione delle barriere fisiche e sensoriali, valori bassi, pochissimi stabilimenti hanno dei piani. Per finire sugli esiti vi fornisco proprio una sintesi di un confronto fra i valori che abbiamo rilevato con la checklist Agenas e con gli indicatori della regione Emilia-Romagna. Voi potete vedere la linea blu, i valori, gli esiti in una scala da 0 a 10 rilevati con la checklist Agenas e quella rossa con il set minimo dei corrispondenti e lo ricordo sono corrispondenti allo stesso indicatore di Agenas. Allora, se noi vediamo che sul strumento di Agenas c'è un'alta d'impienza rispetto a tutte le caratteristiche da rilevare, cioè i valori si avvicinano a 10 nella maggioranza dei casi. Ecco, e questo ci pone un ulteriore tema di riflessione. Come facciamo a confrontarci fra di noi a livello interno? In questo senso la checklist di Agenas se quindi ci risulta molto utile per confrontarci con livello nazionale forse meno non completamente utile per confrontarci fra aziende dentro la regione. Risulta in questo senso e per molti indicatori avere una, fra virgolette, maggior sensibilità a rilevare comportamenti il set minimo perché se l'Emilia Romagna non ha particolari problemi all'aver sviluppato protocolli e linee guida su diversi aspetti se andiamo a valutare come questi protocolli vengono agiti e il set minimo porta a questo approfondimento vediamo allora dei valori che in alcuni casi sono più bassi. Per chiudere, sono ormai in chiusura qual è il valore aggiunto come dire della ricerca in Emilia Romagna? Principalmente le equip miste, come dicevo, e la formazione che hanno condotto che è stato un elemento veramente di coesione a livello regionale e locale. La collaborazione con il centro regionale per il benessere ambientale ambientale, aziendale, sì fra funzioni dell'agenzia e con i servizi dell'assessorato interessati dalla rilevazione, il servizio assistenza ospedaliera e il servizio strutture e tecnologie informative. Un altro valore aggiunto è rappresentato e noi siamo in questa fase di sviluppo dei piani di miglioramento regionale e aziendale e diciamo che abbiamo l'obiettivo di costruire una banca dati regionali delle azioni di miglioramento entro la fine della ricerca Agenas. Poi il valore aggiunto della regione Emilia Romagna consiste proprio nel set minimo regionale per valutare la performance dal lato del cittadino oltre che la connessione con il processo di accreditamento. Parliamo quindi, la mia, e finisco che è l'ultima dalla valutazione dell'umanizzazione alla valutazione delle performance quello che abbiamo provato a proporre quindi è una proposta che voi potete vedere anche in carpetta una proposta di valutazione dal punto di vista dell'utente che si possa affiancare magari ad altre modalità di valutazione a livello regionale o a livello aziendale e che possa, come dire, garantire come ambiti di misurazione sia il grado di umanizzazione che il grado di qualità percepita con corrispondenti indicatori quelli sviluppati e sperimentati sul grado di umanizzazione e quelli sviluppati nelle ricerche e nelle indagini di qualità percepita con questionario che hanno utilizzato un questionario regionale per la qualità della cura in ospedale oltre che il sistema informativo. Io quindi faccio ringraziamenti a questo punto ai referenti civici alla cabina di regia regionale, al centro Alcriba e a tutti i referenti aziendali della ricerca ma soprattutto all'equip miste perché veramente si sono messe in gioco sui contenuti hanno dato tempo della loro vita parlando di vita e quindi ringrazio veramente tutti per questo cammino condotto insieme. Grazie.